In questi giorni avrete visto sicuramente la città di Taranto tempestata di manifesti di ogni dimensione, ivi compresi i 6x3, con una scritta a mio avviso delirante. E' un manifesto fatto appunto a Figgere dall'AIGI, Associazione Indotto Acciaierie d'Italia e General Industries, che chiede un intervento, interventi e rispetto da parte di governo, regione comune per Taranto, con riferimento alla crisi, alla problematica enorme della siderurgia, ma la cosa a mio avviso delirante, e non a mio avviso, obiettivamente delirante, l'offesa, la follia e aver scritto no allo stop dell'acciaieria più ambientalizzata d'Europa. Allora chiariamo, io sono per la chiusura senza se e senza ma dell'ex silva, ma si può essere a favore o contro la chiusura. Io l'ho detto, sono per la chiusura senza misericordia, ma la follia, la falsità, la pazzia vera e propria è aver scritto che parliamo dell'acciaieria più ambientalizzata d'Europa. Cari signori dell'AIGI, dell'Indotto, dell'Associazione dell'Indotto di Acciaierie d'Italia, ma voi state dando i numeri? Ma cosa avete fatto? Avete bevuto un po' di vino in più? Perché, scusatemi, stiamo parlando di un'industria, di una fabbrica che semina morte, che non è affatto ambientalizzata, che produce con sistemi obsoleti e cancerogeni, con una produzione preistorica, oserei dire, a carbone e voi, senza che Arcelor Mittal, che Acciaierie d'Italia abbiano mai fatto interventi veri e propri di ambientalizzazione, voi non solo dite che è ambientalizzata, ma che questa fabbrica è quella addirittura più ambientalizzata d'Europa, ma che sono queste puttanate, che sono queste stronzate, sono puttanate, stronzate quelle che state dicendo, sono falsità. Andate in altre parti d'Europa, evidentemente voi siete rimasti, voi girate, signori dell'Associazione dell'Indotto, girate Taranto, San Giorgio e Carosino, avete mai preso un aereo in vita vostra? Avete mai visto quelle che sono le vere fabbriche, industrie ambientalizzate? Andate in Germania, andate nei paesi del nord Europa, quelle sono davvero industrie ambientalizzate, ma non un catorcio vecchio come l'Ec Silva, che voi volete spacciare per acciaierie più ambientalizzate d'Europa. Questo è uno schiaffo che voi state dando agli ammalati di cancro, ai morti di cancro, ai familiari dei morti e degli ammalati di cancro. Fatevi un giro nel reparto di oncologia e andate a dire che quella merda, quella fabbrica assassina è la più ambientalizzata d'Europa. Vi va bene se vi prendono a pomodoro in faccia, ma vi rendete conto? Vi rendete conto di quello che state dicendo? Ma i dati, gli ultimi sforamenti che vi sono stati di benzene e di altri inquinanti, ma voi li vedete o no? Allora che queste puttanate, queste falsità, me le dica Acciaierie d'Italia, me le dica Arcelor Mittal, me le dica la Morselli, ci può anche stare perché poi alla fine, giustamente, tra virgolette giustamente, l'imprenditore, l'amministratore delegato deve vantare, deve dire cose anche finte per non valorizzare la propria realtà produttiva, ma non voi, non voi, un indotto che viene, scusatemi l'espressione, pisciato in testa, con ditte che non vengono pagate da mesi e mesi e conseguentemente non pagano i dipendenti. E questa associazione Reagi, massimo rispetto, io non la conosco, mi viene a dire che cosa? Che quella è l'acciaieria più ambientalizzata d'Europa, io non entro nel merito, io non vi sto condannando perché voi volete l'exilva aperta, io la voglio chiusa, voi la volete aperta, opinioni completamente diverse, ma io vi sto condannando su questa stronzata, puttanata falsità di dire che quell'acciaieria, quel catorcio, quella merda è l'acciaieria più ambientalizzata d'Europa, per cortesia, non dite più queste falsità perché veramente voi fate sobbalzare, fate saltare i morti dalle bombe, quei morti uccisi dall'exilva e basta, e basta con queste stronzate, io da cittadino, da consigliere comunale queste puttanate non posso accettarle e insieme a me non le accetta una città sofferente, una città taranto che è diventata la capitale dei tumori, la capitale dei tumori con l'acciaieria più ambientalizzata d'Europa, ma che tipo di vino avete bevuto?